Musica Ci troviamo in questa splendida cornice del mulino Fiaccati, una struttura del 1881, ospite a Gentile Concessione dei proprietari a Roccapalumba, per questa che è una delle ultime spedizioni sul territorio per promuovere giornata di divulgazione all'interno di un convegno che parlerà delle finalità progettuali, dei risultati di medio periodo, ma anche in vista di un progetto di filiera che possa far scattare a questo momento di trasferimento di innovazione scientifica l'ulteriore passo, l'ulteriore processo che è quello di concretizzare un'attività produttiva sul territorio. Con il progetto siamo stati bravi a trasferire le risultanze del laboratorio su una scala più ampia, adesso il mondo imprenditoriale si aspetta da noi che possiamo offrire, suggerire spunti anche per organizzare una filiera produttiva. Ed è questo il motivo di questo incontro. Nella giornata odierna anticiperemo e concluderemo con due campi sperimentali, somministreremo il digestato in un'ottica di economia circolare, questo per far comprendere che noi ci troviamo perfettamente nel solco della sostenibilità ambientale e economica, restituiamo alla terra a ciò che dalla terra abbiamo sottratto. Ma nel restituire questi prodotti è anche importante comprendere come farlo e allora ecco che con l'aiuto di validi professionisti cercheremo di lanciare un'idea, quella di creare una carta dei servizi dell'utilizzo del digestato in modo che ad ogni terreno, ad ogni substrato corrisponda un uso appropriato di questa meravigliosa risorsa che non è soltanto un abbendante ma anche sicuramente un fertilizzante. Quindi sicuramente siamo a una fase avanzata del sviluppo tecnologico e del trasferimento e le aspettative sul territorio sono veramente notevoli. Oggi durante il convegno affronteremo, riporteremo i risultati sempre del progetto e i bioscarte in particolare dimostreremo per esempio l'effetto della concimazione organica in particolare di come abbiamo utilizzato residui sempre della filiera fitico-indicola trattati come ammendanti nel terreno da cui poi abbiamo ottenuto dei frutti, abbiamo valutato la qualità di questi frutti. Dai primi risultati, cosa che addirittura non ci aspettavamo, già fin dal primo anno abbiamo trovato per esempio una dimensione, una pezzatura media dei frutti molto più alta rispetto a quelle che è il figo d'india del testimone ma anche uno sviluppo del colore più significativo ma anche dal punto di vista sensoriale un gradimento tale quale del testimone e in alcuni casi addirittura superiore. Cioè noi abbiamo fatto un'analisi sensoriale dove abbiamo addestrato un panel di asseggiatori, abbiamo fatto assaggiare questo confronto tra il frutto tradizionale e quello con solo le bucce di fichidini e quello additivato anche col digestato. Negli ultimi due casi abbiamo trovato un significativo miglioramento rispetto al frutto testimone. Vi do il benvenuto nell'azienda agricola Mulino Fiaccati, in particolare in questa ambientazione è sicuramente suggestiva. Oggi avremo la possibilità di fare un passo avanti nel progetto Ebbio Scart, progetto importantissimo nell'ottica dell'economia circolare, nell'ottica di una economia agricola che punta soprattutto sulla sostenibilità, fattore importantissimo soprattutto per noi giovani, per le nuove generazioni. Oggi appunto nel campo dimostrativo avremo la possibilità di somministrare e di distribuire il nostro digestato solido e liquido ottenuto come bioprodotto dall'estrazione delle bucce di Fico d'India non commercializzabile, quindi un prodotto che in altre occasioni sarebbe stato di scarto e avremo la possibilità ancora una volta di vedere un ciclo, di dare modo di vedere un ciclo che dalla terra ritorna alla terra. La nostra azienda è nata circa 30 anni fa e siamo stati sempre aperti alle innovazioni. Uno dei motivi per cui facciamo parte di questo parteneriato molto interessante è proprio questa nostra voglia di scoprire cose nuove e di colmare ulteriori conoscenze proprio sul Fico d'India. Appunto il progetto come lo sappiamo, Bioscarte, va a valorizzare gli scarti del Fico d'India e che oggi bisogna parlare sempre di sostenibilità che diventa sempre più importante questa parola perché l'attività agricola sta soffrendo in maniera esagerata anche perché i concimi e tutto quello che occorre, tecnico e culturale, hanno un costo notevole. Utilizzando questi scarti del Fico d'India che oggi utilizzeremo nel nostro campo sperimentale proprio va ad arricchire le nostre conoscenze su come comportarci i prossimi anni considerando le concimazioni che ogni anno bisogna fare e affrontare economicamente. Quindi questo progetto ci sta aprendo altre finestre di speranza io dico di speranza perché la situazione agricola non è semplicissima bisogna essere molto convinti di fare determinate cose e per fortuna il progetto Bioscarte da questo punto di vista ci sta dando una speranza altre speranze perché appunto non ci dobbiamo sicuramente fermare bisogna andare sempre avanti e cercare di trovare nuove soluzioni affinché il settore fichi d'indicolo a Rocca Palumba e in Sicilia vada avanti perché io faccio appunto come dicevo questa attività dal 1990 e ancora diciamo vedo speranze e vedo orizzonti positivi per il futuro. Il riutilizzo che qualcuno chiama riciclo, che qualcuno inserisce nel concetto di economia circolare è un concetto così tanto antico quanto la nostra vita. Prima la chiamavamo in modo diverso, poi con l'avvento negli ultimi 20-30 anni del consumismo e la standardizzazione dei prodotti dove si scelgono nel caso dei fichi d'india i prodotti migliori e si scartano gli altri c'è stata una grande perdita anche di valore e di produzione ricordo che i nostri padri, i fichi d'india non li scartavano li davano agli animali, li trattavano in modo diverso, li davano per concimazione e adesso con termini diversi, con ottiche diverse, con economia di scala diversa si sta ritornando a quello che per distrazione avevamo perso e di questo sono contento. Quando riutilizzi il fico d'india che non puoi portare al mercato perché appare meno bello ma invece lo utilizzi per scopi diversi, per estrarre altre cose, per alimentazione zootecnica per utilizzare in modo diverso con canditi e così via i prodotti di scarto certamente è un valore aggiunto ulteriore nella produzione da vendibile dell'azienda ma è anche una maggiore ricchezza e una maggiore attrazione verso l'interesse al fico d'india quindi questa è una bellissima cosa. Grazie 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 Grazie